Aspetta, vai! Sono Paolo Mazzon, faccio il commercialista, sono di Padova e ho avuto il piacere di partecipare a questo incontro con il professor Brancozzi perché ho capito l'importanza del cruscotto di gestione. Come commercialista mi sono sempre interessato nell'aspetto fiscale ma ho capito che ho perso tanto tempo e che le aziende hanno bisogno di qualcosa di più. E questo io lo posso anche proporre a tanti altri colleghi e soprattutto anche ai miei clienti perché penso sia la cosa fondamentale per il futuro. Grazie.